Nel giro del B di prima categoria, la Vis Nuova Alba ospita il Santa Sabina. Padroni di casa bisognosi di tre punti per non perdere il treno playoff, mentre gli ospiti cercano la vittoria per continuare la contesa al secondo posto in classifica. Dirige l'incontro Alessandro Donati della sezione di Foligno. Subito gli ospiti in attacco al quarto minuto, tiro da posizione e defilata che non impensierisce l'estremo difensore casalingo. Pronta la risposta di Nuova Alba al decimo minuto, Verzini calcinato un ottimo pallone, Bucari di pugno rispedisce al mittente. Dopo le scintille iniziali, calano i ritmi e si corre fino al trentesimo. Corner per il padroni di casa, tentativo di conclusione in acrobazia che purtroppo finisce ancora con un nulla di fatto. Risponde il Santa Sabina con una conclusione dalla lunga distanza che non inquadra lo specchio della porta. Si arriva allora all'intervallo sul risultato di 0-0. Nella ripresa cambiano i ritmi con entrambe le formazioni alla ricercare il gol vittoria. Al sesto ci prova Piorico di prima intenzione dal limite dell'aria, Bucari controlla senza difficoltà. Risponde al settimo il Santa Sabina ma anche la punizione calciata da Morlupo non crea problemi a Persichini. Al nono minuto punizione dal limite per il Nuovalba, rossa terra centrale che non impensierisce l'estremo difensore cospite. Polvri decisamente bagnate per gli opposti reparti offensivi. Al sedicesimo Buzzi cerca l'incorsione solita in area, la sua conclusione vola però sopra la traversa. Ancora Vismovalba in attacco, punizione dal limite, Bucari questa volta non controlla, si avventa sulla palla l'attaccante bianco-verde ma con scarsi risultati. Ultima occasione della gara al quarantunesimo per la Vismovalba, Verzini da calcio di punizione e raso terra che corre fuori a fil di palo. Termina qui l'incontro, le squadre si spartiscono un punto a testa che non serve a nessuno. Sono contento della prestazione della mia squadra, affrontavamo una compagine molto forte, ben attrezzata, sicuramente una delle squadre più in forma in questo momento del campionato. Abbiamo fatto un'ottima gara, gli abbiamo concesso quasi niente, abbiamo avuto anche qualche occasione per vincere la partita. Un risultato tutto sommato giusto e faccio i complimenti ai miei ragazzi che stanno facendo una buonissima stagione. Era un momento difficile per noi, è un punto che ci dà ossigeno e che anzi ci dà fiducia per il finale di campionato. È stata oggi una partita molto complicata perché abbiamo affrontato un avversario di valore che oggi ha fatto una grandissima partita, ci ha messo in difficoltà. Però noi siamo stati bravi, abbiamo tenuto e siamo contenti. È un risultato ancora positivo che ci allunga la striscia di risultati positivi che stiamo facendo fino adesso.